ATP Barcellona, Musetti rimonta ai quarti c'è Sinner Barcellona, Spagna, una settimana dopo il Masters 1000 di Monte Carlo, Lorenzo Musetti e Yannick Sinner torneranno a sfidarsi Ancora nei quarti ma stavolta al Barcellona Open Bank Sabadell, ATP 500 da 2 722, 480 euro che si sta disputando sulla terra rossa delle Real Club de Tennis Barcellona 1899 Il 21enne di Carrara, numero, 20, del ranking e 9 del Seeding, rimonta a Cameron Norrie Settima testa di serie, per 3 a 6 6 a 4 6 a 1 dopo 2 ore e 4 minuti di autentica battaglia Musetti Sinner, terzo incrocio il darby italiano tra l'alto Atesino e il Toscano coincide con il terzo confronto nel circuito maggiore tra i due giocatori Fin qui ha sempre avuto la meglio il 21enne di Sesto Posteria Che si è imposto ad avverso nel 2021 in due set, 7 a 5 6 a 2, e 7 giorni fa nel Principato con un doppio 6 a 2 Virgola